Sarà un Arezzo con spiccati dote offensive quello che affronterà la propria cenza, una scelta dettata non solo dalle caratteristiche di un avversario che arriverà al comunale con un 5-3-2, ma anche dal buon secondo tempo degli Amaranto a Lucca. C'è da dire anche che in settimana Sottili ha provato sia il 4-2-3-1 con il cliente formato da Arcidiacono, Erpene e Ianga alle spalle di un'unica punta che il 4-4-2. Il modulo con due punte permetterebbe di far convivere Moscardelli in gol per la prima volta in stagione al Portelisa e Polidori che di gol ne ha già assegnati tre. All'Arezzo serviranno anche centimetri e peso lì davanti non solo in termini di esperienza, concetto ribadito da Sottili, ecco perché un Arezzo con il 4-4-2 è molto più probabile del modulo con tre rifinitori. In difesa certi di un posto dal primo minuto ci sono Luciani, Muscat e Sirri. La velocità delle punte rossonere potrebbe spingere per masciangere al posto di Sabatino. In mediana Foglia farà coppia con uno tra Corradia e De Feudis, mentre sugli esterni toccherà da Arcidiacono e Ianga con Moscardelli e Polidori in attacco. La propria cenza di Fulbiopea arriverà al comunale con il 5-3-2 che ha garantito la vittoria contro il Ponte d'Era. E' attenzione agli ex della partita perché tra le fila della propria cenza militano infatti Daniele Vazofia, cresciuto nelle giovanili a Maranto insieme ad Andrea Ranocchia, e Mario Pugliese che nella scorsa stagione ha collezionato 15 presenze con la divisa del Cavallino.